Il caso della chirurgia vascolare del San Bassiano piomba in consiglio regionale ma non emergono novità. Dopo appena due mesi i nomadi tornano a parcheggio Gerosa. Il 2028 nel Mierino per una nuova adunata degli alpini sul ponte. Rincari e tagli per le amministrazioni sindaci della Pedemontana costretti ad aumentare le tasse. La presenza dei lupi è accertata tra Bassano e Marostica siamo andati a raccogliere alcune testimonianze. Evade dai domiciliari pizzicato in centro a Bassano finisce in prigione. Bioplastiche nel compost al via un progetto per gestirle rapidamente. Dopo dieci anni di lavoro inaugurata a Campodarsico la nuova pista ciclabile. Un cordiale buonasera a tutti voi telespettatori ben ritrovati al nostro consueto spazio dedicato all'informazione di Bassano e dintorni. In apertura del nostro telegiornale torniamo a parlare del caso della chirurgia vascolare dell'ospedale San Bassiano che piomba in consiglio regionale ma dalle risposte della giunta veneta non emergono novità. Sono passati tre mesi da quando è emersa la situazione di difficoltà della chirurgia vascolare del San Bassiano alle prese con una carenza di medici che per la politica locale metteva a rischio il servizio stesso nell'ospedale di Bassano del Grappa. Ecco che cosa era emerso all'epoca. C'è carenza di medici ed è a rischio il servizio di chirurgia vascolare del San Bassiano. Una situazione molto delicata che è già approdata in regione. L'Ulss7 conferma che il problema c'è e che si sta cercando di fare il possibile per risolverlo o almeno per tamponare la falla. Ma dalla direzione fanno anche sapere che c'è un problema di medici che non si presentano i bandi. La faccenda era effettivamente approdata in regione grazie all'interessamento della consigliera Chiara Luisetto che aveva formalizzato un'interrogazione per capire cosa stesse accadendo al San Bassiano. Queste le premesse. Dopo alcuni licenziamenti e una maternità il reparto rimane sguarnito con soli tre chirurghi vascolari presenti e operativi. La risposta che oggi mi arriva è cioè che la regione ha autorizzato nuove assunzioni e una risposta a metà che non soddisfa la richiesta e il bisogno di questo reparto di essere efficiente e di rispondere non soltanto al territorio bassanese ma a tutto il territorio dell'Ulss7. A lasciare perplessi era soprattutto il fatto che il bando bassanese sia andato deserto mentre un medesimo bando negli ospedali di Belluno-Ruvigo aveva raccolto adesioni da parte dei medici. La domanda vera è perché gli specialisti non scelgano Bassano ma preferiscano Ulss più in territori più complessi come quella del Rodigino o quella del Bellunese andando deserto anche il bando che è stato emanato nel gennaio scorso. Questo dettaglio apre un quesito sull'appetibilità dell'ospedale di Bassano per i medici con una lunga serie di considerazioni su questo tema così complesso e qualcuno si chiede perché vengano preferite aree come Rovigo e Belluno rispetto al Bassanese. In ogni caso la risposta dell'amministrazione regionale all'interrogazione si basa sulla programmazione ovvero le assunzioni sono state autorizzate. Tutto qui una risposta che non ha soddisfatto la consigliera regionale. Credo importante andare oltre al semplice autorizzare andare a fondo alle motivazioni e capire perché la chirurgia vascolare viva questo periodo di sofferenza in modo da risolvere la questione e dare un servizio alle cittadine e ai cittadini e ai pazienti che si rivolgono a questo come un punto di riferimento dove specialisti di valore non possono essere lasciati soli. Restiamo a Bassano perché dopo neanche due mesi i camperisti nomadi sono tornati a parcheggio Gerosa. I camperisti nomadi sono tornati al parcheggio Gerosa. Questo il riassunto di tante telefonate e altrettanti messaggi ricevuti in redazione da parte di cittadini che ci hanno contattato per segnalare movimenti sospetti soprattutto nelle ore serali. A inizio luglio lo ricordiamo il sindaco Nicola Finco e l'assessore alla sicurezza Alessandro Campagnolo in un'operazione coordinata con questura e polizia locale avevano fatto sgomberare l'area occupata dai nomadi per più di un anno trasferendoli poi a quartiere pre. Ma adesso a distanza di due mesi rieccoli al Gerosa anche se stavolta la situazione ha contorni diversi. Questa famiglia di nomadi è ritornata provvisoriamente al parcheggio Gerosa e noi ne eravamo informati in questi giorni lo sapevamo. Sappiamo anche che torneranno al parcheggio al posto del quartiere pre anche se siamo consapevoli che non è una soluzione adeguata per le loro esigenze. Dobbiamo ricordare che sono residenti a Bassano del Grappa e che hanno due minori a carico. In questi giorni almeno una famiglia di camperisti nomadi è dunque effettivamente tornata al Gerosa per fare il rifornimento di energia elettrica e per usufruire dei servizi igienici. La giunta comunale sta correndo per dare una sistemazione definitiva a questa famiglia per creare una situazione dove l'elettricità e i servizi igienici siano minimi per una situazione che possa arrivare alla normalità. Quindi non mi sento di negare assolutamente la situazione che lei mi ha segnalato. Sappiamo che è una cosa incidentale, provvisoria, su cui noi stiamo lavorando. L'amministrazione comunale vuole risolvere rispettando anche le esigenze umane di queste persone. E noi come sempre seguiremo da vicino l'evolversi di questa vicenda e vi terremo aggiornati nelle prossime edizioni della nostra informazione. Adesso cambiamo decisamente argomento perché la festa per l'adunata degli alpini della Montegrappa ha riaperto la corsa ai grandi eventi delle penne nere sul ponte di Bassano. Qualcuno consiglia di cerchiare in rosso il 2028. Vediamo perché. Dopo i fasti della adunata nazionale di Vicenza che resterà nella storia, dopo le immagini degli alpini a quota zero, nel raduno del terzo rogruppamento di Bibione, resta in Veneto tanta voglia di risentire 33 e di rivedere quel fiume di cappelli verdi e penne nere invadere le belle città della regione. Gli occhi di tutti sono puntati ora su Bassano del Grappa, città degli alpini, che con questi ultimi ha rinsaldato il patto d'amicizia con l'adunata dell'Ana Montegrappa. E così, con il cuore gonfio dell'emozione di tornare sul ponte vecchio, pardon, degli alpini, qualcuno si sbottona e inizia ad ammettere che c'è della carne al fuoco. Chi non sogna di vedere ancora una volta sfilare gli alpini per il ponte di Bassano, il ponte degli alpini, tutti lo sogniamo. Naturalmente quando saranno i tempi giusti ne parleremo, sicuramente. La nazionale è piuttosto difficile da riportare a Bassano perché ci sarebbe in ballo una sorta di prelazione di Verona per il primo grande evento in Veneto. Ma le trivenete già fissate sono solo quella di Conegliano dell'anno prossimo che si preannuncia di grandissimo richiamo e quella del 2026. Andremo a Gemona, in Friuli, per celebrare lì il raggruppamento e la raduna del raggruppamento. Poi tra l'altro anche coincide con le ricorrenze del terremoto del Friuli del 76. E poi vedremo in proseguo l'8 forse magari è un numero fortunato per Bassano. L'8 è un bel numero anche perché 48, 2008. Se c'è l'8 gli alpini di Bassano derisano le penne immediatamente. Ma certo, se lo dice uno dell'ottavo della Iulia ci si può credere. Insomma, i numeri parlano chiaro. Il 2028 dal punto di vista dell'organizzazione di un evento come una donata, non sappiamo ancora se nazionale o triveneta, è letteralmente dietro l'angolo. I numeri parlano chiaro dato che la prima durata nazionale degli alpini è arrivata a Bassano del 1948 in occasione dell'inaugurazione del ponte. Poi il 2008 con un altro raduno nazionale che ancora oggi è nella memoria e nell'anima di chi l'ha vissuto. Chi vivrà vedrà. Nel frattempo non ci resta che riempire nuovamente gli occhi e il cuore con le immagini degli alpini sul ponte che porta il loro nome. Rincari in arrivo e allora i sindaci della Pedemontana sono sul piede di guerra. Scopriamo perché. I tagli erano stati ampiamente annunciati, ma adesso che i nodi stanno per arrivare al pettine sono molti i sindaci del territorio che manifestano preoccupazione in vista della stretta a cui dovranno adeguarsi. E parliamo di meno risorse per le amministrazioni come misura necessaria per far quadrare i conti a livello centrale. Ma cosa rischiano concretamente i cittadini? Anzitutto di vedere aumentare i costi di mense e trasporto pubblico, ma soprattutto IRPEF e IMU. Se viene tagliata la parte corrente ovviamente questa graverà sui nostri concittadini perché i fruttori di quei servizi, pensiamo alle mense e i trasporti, si vedranno da un lato l'aumento dei costi derivanti, insomma da un'inflazione che è sotto gli occhi di tutti. Con l'altra faccia della medaglia, i tagli e i comuni, quindi o si aumenteranno i costi dei servizi oppure dovrà essere ammessa a carico della fiscalità generale. Ovviamente con le leve che hanno i comuni, che può essere l'IMU o l'addizionale IRPEF comunale, quindi tecnicamente non sarà il governo ad aumentare le tasse, ma saranno i comuni che saranno costretti a farlo per garantire dei servizi ai cittadini e questo è molto preoccupante. I tagli decisi da Roma si inseriscono in un quadro complessivo che non sorride di certo alle amministrazioni comunali, già da tempo costrette a fronteggiare un generale aumento dei costi e adesso, considerando la scadenza del 30 novembre per le variazioni di bilancio, i sindaci hanno poco tempo per approntare le eventuali modifiche, spesso impopolari, alla gestione dei servizi. Questo dà delle difficoltà, soprattutto ai piccoli comuni, perché anche qui non dimentichiamo che vi è un continuo crescere della burocrazia per poter realizzare opere, quindi i comuni di piccole dimensioni vengono caricati di una serie di adempimenti che rendono il tutto particolarmente complicato. Una vacca sbranata, un vitello divorato, vivo e un altro animale disperso. E questo è il bilancio dell'ennesima aggressione da parte dei lupi in alto piano. Dalla pianura ai boschi dell'altopiano, dai quartieri di Bassano e Marostica fino ai pascoli di Asiago, Lusiana, Conco, Fozza, Enego, i lupi stanno trasformando questa estate in uno stilicidio di predazioni e assalti. L'ultima segnalazione in ordine di tempo arriva da Maga Foraoro, sulla spalla dell'altopiano di sette comuni che guarda a Caltrano. Nelle scorse ore i selvatici sono tornati in azione, predando una vitella e facendone scappare un'altra. L'animale ormai senza vita è stato trovato dai proprietari, ai quali non è rimasto che raccogliere i resti e girare la segnalazione alle autorità. Del secondo animale, spaventato dai lupi, non ci sono al momento notizie, ma sono molte le vacche disperse in zona quest'anno. Alcune sono state uccise e divorate e quel che resta è finito nel folto del bosco. Altre, probabilmente, sono cadute in qualche dirupo e di loro si è persa ogni traccia. Nel fine settimana è stato aggredito e sventrato anche un vitello in un'altra maga di Caltrano, dove attiva un branco che si sposta fino a Montecorno e nella piana di Granezza. Un altro branco ha preso possesso dell'area che va dalla Valla Staro fino a Rubio e agli spalti dell'altopiano sulla Val Brenta. Mentre dai tanti avvistamenti che arrivano dalla pianura, sono molti a presupporre che ci sia un terzo gruppo in formazione fra Bassano e Marostica. Cittadini, attività produttive e mondo agricolo chiedono da tempo un intervento, ma le risposte arrivate finora non hanno soddisfatto le esigenze del territorio. Tanto che c'è fra i malgari chi ha deciso di chiudere anzitempo la stagione dell'alpeggio e chi ha minacciato di non fare neppure la trasumanza a settembre. E la presenza dei lupi tra Bassano e Marostica è oramai accertata. Noi siamo andati proprio lì per raccogliere alcune testimonianze. A seconda della quota altimetrica, le segnalazioni dei lupi si trasformano via via da dicerie a testimonianze dirette. La prima tappa è a Valle San Floriano. Visti no. Ho sentito parlare che ci siano in giro sì qui in zona, ma ancora non li ho visti no. Non senti per televisione niente di più, ma non li ho visti e non so dirle niente. Si sale a Vallonara dove cominciano a crescere le preoccupazioni anche per i gestori e i clienti delle attività ricettive. Segnalati sì dal gruppo Facebook del paese e al momento fortunatamente non ci siamo mai incrociati. Infine si arriva a Crosara con un caso recentissimo, praticamente dentro la borgata. Sì, è successo proprio la settimana scorsa che praticamente hanno trovato le ossa dello scheletro di un muflone mangiato dei lupi. Era veramente divorato in tutte le sue parti perché proprio sotto la casa qui in centro a Crosara hanno mangiato praticamente tutto il corpo. È rimasta solo la testa e la coda, quindi devono essere stati anche un branco piuttosto numeroso perché di solito mangiano piccole parti, mentre questo era completamente disossato proprio. La gente dice che di notte li vede passare, cioè con le macchine li incontrano, quindi penso che ci siano abbastanza un numero elevato di lupi in questa zona. Ed è un peccato perché questo va un po' a inficiare quello che è la possibilità anche di muoversi, di passeggiare, eccetera, perché la gente ha un po' di timore insomma ad entrarsi nei sentieri in mezzo ai boschi. La pagina di Cronaca ha arrestato un 27enne per reati contro il patrimonio. Deve scontare una pena di oltre quattro anni e mezzo un 27enne italiano responsabile di una serie di reati contro il patrimonio commessi tra il 2016 e il 2022. L'uomo è stato identificato nei giorni scorsi in centro a Bassano dopo una serie di segnalazioni al 112 in merito alla presenza di persone moleste e in stato di alterazione. Dopo aver tentato inutilmente la fuga, il 27enne è stato fermato dai carabinieri fornendo false generalità. L'uomo a gennaio 2023 era evaso dagli arresti domiciliari e da allora risultava latitante. Il tribunale di Vicenza ha così deciso per l'aggravamento della pena facendolo riportare al carcere San Pio X dove finirà di scontare la condanna residua. Nell'ambito dei controlli sul territorio dei carabinieri è stato denunciato per ricettazione un 24enne marocchino trovato dai militari di Marosti che in sella a una bicicletta risultata rubata poco prima ai danni di un 48enne. Inoltre sono stati segnalati per uso di stupefacenti un 18enne di Rossano Veneto trovato in possesso di Ascish e un 34enne di Sandrigo che aveva con sé una modica quantità di cocaina. E adesso spazio alle vostre segnalazioni. Nei giorni scorsi abbiamo raccolto diverse testimonianze sul degrado del manto stradale a Bassano. Oggi andiamo a Cabaroncello. Cabaroncello ritorna nell'incuria. Alcuni telespettatori ci hanno segnalato la situazione di degrado del quartiere. Le fotografie documentano la folta presenza di erbacce che si fanno spazio ai lati del vicolo che porta alla stazione arrivando ad occupare buona parte dei passaggi pedonali del parcheggio adiacente. Anche la pista ciclabile risulta parzialmente sommersa dalle erbacce e dalla bassa vegetazione. Non va meglio lungo il marciapiede che conduce al sottopasso stradale di Via Tabacco. Anche questo poco curato con ramaglie abbandonate ma non solo. Gli scorrimano sono diventati dei veri e propri cestini con lattine posizionate con chissà quali intenti artistici. E anche per terra non mancano immondizie, fogliame e cartacce. Il sottopasso è stato preso di mira anche dai vandali che non hanno risparmiato le poche pareti prive dei murali scolorati disegnando con bombolette spray scritte e simboli di varia natura. E come sempre vi ricordiamo i nostri recapiti per mandarci le vostre segnalazioni. Questo è il numero Whatsapp e la mail redazionechiocciolareteveneta.it a cui potete scrivere, inviare foto e video. Noi raccoglieremo le vostre segnalazioni e le porteremo all'attenzione di chi di dovere. Parliamo adesso di bioplastiche nei rifiuti organici. L'Università di Padova al lavoro per rendere migliore e più veloce il compostaggio e aumentare la produzione del biometano. Finiscono nell'umido ed è corretto i sacchetti della spesa in bioplastica composti generalmente da acido polilattico e amido termoplastico. Un'azione che rende necessario un pretrattamento negli impianti di lavorazione da qui la collaborazione tra Università di Padova, EITRA e BTS Biogas che permetterà di ottimizzare e rendere più veloce il trattamento attraverso una nuova forma di digestione anaerobica che punta ad accelerare l'idrolisi delle bioplastiche. Grazie ai batteri che stiamo sviluppando, in particolar modo questi enzimi, questi forbici molecolari, cerchiamo di depolimerizzare le bioplastiche che possono essere un problema per la digestione aerobica e in realtà li vogliamo convertire in uno sciroppo per produrre più biometano. Noi raccogliamo, come voi sapete, i rifiuti in 70 comuni del nostro territorio, raccogliamo anche l'umido. Dall'umido lavorato già ricaviamo biometano, già ricaviamo biogas, già ricaviamo il compost, ma il problema delle plastiche biodegradabili che hanno tempi di trasformazione diversi rispetto alla materia organica ci pone qualche problema di impiantistica. Quindi ecco la nostra attenzione a questo progetto, noi mettiamo a disposizione la nostra esperienza, i materiali per fare le sperimentazioni in laboratorio e anche la disponibilità a sperimentare i prototipi che dovrebbero uscire da un progetto di questo tipo. L'ambiente ci chiede di differenziare sempre meglio i nostri rifiuti e in questo i cittadini dei 70 comuni del bacino Etra stanno già lavorando con precisione. Noi abbiamo raggiunto quest'anno l'81,5% di raccolta differenziata che è un bellissimo risultato e lo raggiungiamo grazie ai cittadini. Questo passaggio sull'umido è un passaggio in più perché ci permette di avere compost di migliore qualità, gli impianti più liberi da ingombri dovuti a queste plastiche e quindi una qualità superiore e complessiva al trattamento dei rifiuti. Torniamo a Bassano per vedere come sono andate le premiazioni del concorso Balconi Fioriti. Per vedere Balconi Fioriti, terrazze, terrazze fiorite ecco donna quel tocco in più per rendere ancora più bello il nostro centro storico, la nostra città. Coinvolgere i residenti del cuore di Bassano nel rendere ancora più bella e accogliente la città. È l'obiettivo del concorso Balconi Fioriti promosso dal Comitato Centro Storico della Pro Bassano che anche quest'anno ha registrato tante adesioni, veri capolavori che si sono ammirati alzando gli occhi alle facciate dei palazzi di verde e colori sgargianti vestiti. Primo premio in via Campomarzio, secondo in via Zaccari a Bricito, terzo in via Menarola. A questi si è aggiunto il premio Pro Bassano che ha portato la giuria in via Ferracina. Riteniamo che sia un'occasione speciale nella sua semplicità per invitare i cittadini, i residenti del centro storico, non solo ad abbellire le loro residenze, i loro balconi, ma far capire che avere amore per la città è importante. E dopo dieci anni di lavoro inaugurata a Campo d'Arsego la nuova pista ciclabile. Dieci anni di lavoro, un interburocratico in salita, ma finalmente il comune di Campo d'Arsego è arrivato al taglio del nastro della pista ciclopedonale che corre lungo via Domoro e via Rossignolo. Un'opera inaugurata lungo l'asse Muson dei Sassi, stazione ferroviaria e poi fino al percorso Tergola. Tre sindaci presenti al taglio del nastro, nonostante le difficoltà e i considerevoli aumenti di prezzo di questi anni, ha spiegato Walter Gallo, sindaco di Campo d'Arsego, ora i nostri cittadini possono contare su un ulteriore percorso in sicurezza che permetterà anche ai ragazzi e ai lavoratori residenti nell'area o nelle vicinanze di raggiungere in modo sicuro i punti per l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico come bus e treno. Appuntamento in prima serata con il focus del nostro direttore Luigi Bacialli. Gli ospiti di questa sera saranno Guido Bertolazza, Anna Maria Bigon, Fabrizio Boron, Mirko Casteller, Gian Antonio Dare, Alberto De Franceschi, Leonardo Padrin e Francesco Pontelli. Tg Bassano finisce qui, io come sempre vi ringrazio per aver scelto la nostra informazione e vi auguro un buon proseguimento di serata sempre su Rete Veneta.